in mezzo se c'è Piero che vale dieci per gli altri dieci che li stanno intorno per loro che valgono cinque non è che si sforzano a dire cerchiamo di diventare dieci come a Piero no, fanno prima a portare Piero a cinque insieme a loro questa è la categoria nostra no, non ti sto degradando no, la gente non è che si sforzano a dire facciamo come Piero, perché Piero vale dieci? no, per loro è più facile per quegli altri nove Piero viene a cinque insieme a noi ma lui è soddisfatto così che tu lo ascolti e basta non gli devi dare risposta